A nome del programma spaziale europeo, dopo che sono trascorsi 189 giorni di viaggio in completa solitudine, Comandante Prokatska, quali sensazioni sta provando? Quello che faccio lo faccio per tutti voi e mi rende molto orgoglioso. E sua moglie Lenka, ovviamente. Di sicuro non vede l'ora di averla a casa sano e salvo. Non sta affatto bene. Gli manca sua moglie. Allora non doveva andarsene. Sei mesi in isolamento. Inizia a pensare troppo. C'è un'interferenza. Non intendevo spaventarti, umano, pelle e ossa. Non avere paura. Sto impazzendo. Desideri sapere se sono reale. Sono come te. Un esploratore. La tua solitudine mi ha incuriosito. Perché sei qui? Potrei esserti di aiuto. Desidero aiutarti a superare la tua crisi emotiva. E il tuo aiuto non mi serve. Invece sì. Tu vai dove vado io, io vado dove vai tu. Giusto cosmonauta? Questi sono i tuoi pensieri. Li sto soltanto trovando insieme a te. Ciò che ha inizio deve avere una fine. Io non te lo permetto. Tu vai dove vado io, io vado dove vai tu. Voglio solo tornare a casa. Voglio solo tornare a casa.